Cari ragazzi, buongiorno e buon sabato santo a tutti. Iniziamo la nostra meditazione mettendoci alla presenza di Dio. Per me sono più fortunato perché sono qui nella cappellina della comunità proposta. Con tutta probabilità voi sarete in camera vostra davanti a un computer, magari anche sotto un crocifisso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amin. Probabilmente, anche nelle meditazioni dei giorni precedenti, avete sentito fare riferimento normale, a volte fin troppo e spero di non esagerare io, commentando la parola di Dio e il giorno liturgico che stiamo vivendo alla situazione dentro cui questo giorno liturgico si inserisce. Altri anni lo dicevamo che bisogna commentare la parola di Dio stando con i piedi per terra, ma non al punto di immedesimarsi così tanto e così spontaneamente come stiamo facendo adesso. E per poco o tanto che conosciamo il sabato santo nella liturgia che ci piaccia o meno viene spontaneo abbinarlo al tempo presente, almeno fino al 13 aprile o giù di lì. E come adesso anche quel sabato santo era fatto di sospensione e di attesa. Per noi tanto, pensate, ci asteniamo dagli abbracci, ci asteniamo dalle strate di mano, dalle riunioni di famiglia, dagli spostamenti e da chissà quante altre cose ormai da un mese e mezzo. E nel frattempo stiamo provando un disagio che però deve combinarsi con la normalità, perché così è. Disagio, normalità, silenzio, astensione, spaesamento. Questo è ciò che Maria e i discepoli nel cenacolo, chiusi come noi, stavano provando in quel sabato santo. Eppure sembra che questo triduo, questo tempo, questo giorno, lo sentiamo così vero e reale, abbinato al sabato santo e lo sentiamo anche come un dono di Dio. Mi sembra di poterlo dire una sveglia particolare che Dio ci mette nelle mani e l'unico rischio, come facciamo con tutte le sveglie al mattino, è quella di tacitarla troppo presto, girarci dall'altra e rimetterci a dormire. Che cos'è il sabato santo? È un giorno che non sembra così ben connotato come gli altri giorni che lo hanno preceduto, un giorno spoglio, caratterizzato dalle assenze più che dalle presenze. È un giorno in cui non c'è la messa, non c'è la comunione, non ci sono i riti tipici del sabato santo come ci sono dei giorni precedenti. Non c'è neanche una pagina di Vangelo che racconti questa giornata come l'hanno vissuta Maria e gli apostoli. In comprensione sul passato, incertezza sul futuro, smarrimento e attesa. Qualcuno ha definito il sabato santo come il giorno più lungo. Che cosa c'è però nel sabato santo? A cui aggrapparci perché sia reale e incisivo. Anche nel nostro sabato santo c'è il silenzio che guarda con affetto, che contempla Gesù crocifisso e lo adora. E la liturgia, pensate che per il sabato santo ci chiede nelle chiese, passando davanti ai crocifissi di genuflettere. Quel gesto che di solito riserviamo al tabernacolo quando contiene l'eucarestia. Vi ricordate adesso il tabernacolo è aperto, vuoto. L'unica cosa che campeggia sotto l'altare in genere è un crocifisso. Il più grande che abbiamo nelle chiese, quello che siamo riusciti a spostare, l'abbiamo messo lì per l'adorazione, per il bacio. Silenzio che non sa di disperazione perché è attesa di quello che in Dio si sta preparando e anche per noi. La nostra fede fin dall'epoca degli apostoli ci propone, assieme al silenzio, anche un contenuto speciale per questo giorno e ci viene detto così, la discesa di Gesù agli inferi. Ed è una cosa così importante che è entrata nella formula del credo che risale all'epoca degli apostoli. Ed era l'antica professione di fede dei cristiani adulti che si avvicinavano al battesimo. Prima di ricevere il battesimo dicevano questa sintesi semplice, essenziale, della fede che abbracciavano. Di solito nelle nostre chiese alla domenica noi preghiamo il credo che viene detto Niceno Costantinopolitano, perché risale a quel concilio di Nicea e Costantinopoli. Ma il primo credo, che di solito quando lo si fa nelle chiese lo recita agli apostoli, semplicemente perché non lo sappiamo a memoria, conteneva proprio questa formula. Gesù battì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Anzitutto gli inferi non vuol dire inferi. La parola inferi è la derivazione dell'ebraico Sheol, che è il luogo dei morti, il regno dei morti. L'inferno invece è la condizione di separazione e di isolamento eternizzato, che è la situazione e la condizione di morte per eccellenza. Gesù discese agli inferi, quindi sta ad indicare che la missione di redenzione di Gesù non può essere ristretta soltanto agli anni della esistenza terrena di Gesù, quando era come noi, sottoposto ai limiti spazi temporali della sua vicenda storica. Mentre Gesù sperimenta la morte, incontra i morti. I padri della Chiesa hanno una felice espressione bella, che dice così, Gesù quel giorno andò a prendere per mano Adamo ed Eva. Per dire proprio che Gesù, nella sua vicenda terrena, morte compresa, tocca tutte le condizioni della nostra vita. Allora proviamo ad entrarci in questo dono della nostra fede, che sia anche per noi. Vi propongo tre piccole cose. L'umanità divina di Gesù tocca e risana quelli che non tagliano i ponti con Gesù e il Padre. E non soltanto quelli del suo tempo, ma con quelli anche quelli che l'hanno preceduto, tutti e quelli che lo seguiranno. Che mi pare di poter dire così, più l'amore è grande e meno trova limiti che lo circoscrivano. Ecco perché la prima cosa è il silenzio che venera il crocifisso. Se vi capitasse, magari potrebbe anche aiutarvi, assieme al crocifisso, una immagine che trovate dovunque su internet, della pietà di Michelangelo. E' anche quella così toccante. Più l'amore è grande e meno trova limiti che lo circoscrivano. E così è anche per noi. E questo è da contemplare in Gesù, guardandolo e amandolo. La seconda cosa, Gesù incontra i morti nella giustizia. Allora vi suggerirei di portare in Dio le nostre zone rinsecchite. Ne ho io, ne avete voi, di sicuro. Ne ha il Papa, ne aveva Madre Teresa, ne aveva Don Bosco. Le nostre zone rinsecchite e spente. E la prima cosa è dargli il nome giusto alle nostre ombre. Magari l'incostanza, l'impazienza, l'incomprensione degli altri, la pigrizia, la mediocrità che troppo spesso si accontenta. Gesù non ha paura di queste zone che per noi sono rinsecchite, sono ombre, che a volte non abbiamo neanche più la voglia di guardare. Gesù non ha paura di ciò che è nell'ombra o fiacco. Teme ciò che vuole rimanere così. Teme ciò che giustifica a questa situazione di paralisi. E Gesù non ha neanche paura delle zone morte del nostro mondo, della nostra società. Le vede, le conosce, le visita, le guarisce. E pensate cosa sta succedendo in questo tempo? A livello proprio di cura e di guarigione. E poi ancora vi suggerisco, Gesù salva e redime gli uomini prima di noi, i nostri antenati. Allora vi chiedo di benedire quel pezzo di famiglia vostra, mia, che sta davanti a voi. Magari qualcuno di voi è fidanzato, è sposato, forse qualcuno ha figli, se non è solo per gli universitari e anche per i nonni, immaginatevi, anche i nipoti. Quel pezzo di famiglia che sta davanti a noi, ma anche quello che ci sta dietro. Benedite come dono di Dio mamma e papà. Benediteli anche se non condividete le loro scelte. a maggior ragione, se potete dire, Signore, ma grazie. Non erano perfetti, non sono perfetti, ma sono un regalone. Ma anche se non condivideste le loro scelte educative, le loro scelte personali, relazionali, benediteli lo stesso per tutto quello che di loro ci sfugge, perché non lo conosciamo. E quindi è ingiusto valutarlo e giudicarlo. Benedite i nonni e i bisnonni che abbiamo o non abbiamo conosciuto. Questa apertura di cuore in Dio Padre è grande e fa bene a noi e a loro. E lì, in questa apertura di cuore, abita Dio. E voglio leggervelo, e finisco, con una preghiera ritrovata in un campo di concentramento. Quando sono stati liberati i deportati, un soldato ha trovato questo pezzo di carta da pacchi su cui un ebreo aveva inciso la sua preghiera che è arrivata fino a noi e che viene conservata come una piccola reliquia in Francia, nella cattedrale di Blois. Certamente non è un trattato di teologia e probabilmente avrà anche delle imprecisioni a livello di fede. Però guardate che meraviglia quando un cuore si apre alla misericordia di Dio. Questo ebreo prega e scrive così, Signore quando ritornerai nella Tua gloria, non ricordarti soltanto degli uomini di buona volontà, ricordati anche degli uomini di cattiva volontà. Ma allora non ricordarti delle loro sevizie, e violenze. Ricordati piuttosto dei frutti che noi abbiamo prodotto a causa di quello che essi ci hanno fatto. Ricordati della pazienza degli uni, del coraggio degli altri, dell'umiltà. Ricordati della grandezza d'animo, della fedeltà che essi hanno risvegliato in noi. E fa, o Signore, che questi frutti da noi prodotti siano un giorno la loro redenzione. Che gran bella cosa, che dice che non ci si salva da soli. Siamo troppo piccoli, troppo stupidi per salvarci da soli. E poi più l'amore è grande e meno trova vincoli che lo circoscrivano. Allora fidiamoci a Maria, volentierissimo perché lei queste cose le sa, le ha vissute e ne è esperta. Madre della consolazione prega per noi. E madre anche nella disperazione prega per noi.